Non lo passerò, non lo passerò, non lo passerò, non lo passerò, ma è soltanto colpa tua, sarebbe colpa mia, io ho cercato di aiutarti, forse i tuoi famosi metodi di studio non sono così buoni, vero signora maestra? Sto bene a sentire, io mi ho usato per molti esami e sono sempre passate, se può darsi, qual è il nome del primo coreografo degli Wonder Boss? Ehm, ma come? Era il comandante EasyGrad, stai dirmi quanti Pegasus volavano nel gruppo originale? Mmm, sette, qual era lo schema di volo preferito da Princess e Celestia? Te lo dico io, è il saluto al sole di Ligaro, vedi? Io potrei superare l'esame! Fallo, perché non ti iscrivi anche tu? E inoltre, io non capisco perché dovrei fare questo stupido esame, ho già dato prova di essere una delle milioni in volo Conoscere le origini e la storia dei Wonder Boss per rappresentarli ed equestri è altrettanto importante Sì, hai ragione, gli appassionati di storia come te l'hanno deciso per sminuire noi che voliamo Devi capire che è molto utile conoscere la storia, Rainbow Dash Utile per le secchione come te! Ragazzi, questa secchione conosce bene la storia e sa anche volare Io potrei far parte dei Wonder Boss, solo perché hai le ali, non significa che ti sappia volare Ragazzi, non riesci a salto a sollevarti la terra! Ragazzi, basta! Insomma, non è questo il modo di parlare a mia amica Mi dispiace Sì, spiace anche a me Non avete cose più importanti da fare che può preparare Rainbow Dash per il suo esame? Ho provato di tutto, Fluttershy, ma nessuno dei miei metodi funziona con lei? Lady, non è che i tuoi metodi non funzionino, ma credo di sapere come aiutare Rainbow Dash Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!